Un saluto da Elena Rughetto compravendite immobiliari che poi sono io. Oggi si va dal notaio a roggitare un appartamento venduto in casa tenovo in pochissimo tempo. Sentiamo che cosa ne pensano i venditori Roberta e Alberto del servizio offerto da Elena Rughetto compravendite immobiliari che poi sono io. Eccoci dal notaio Brini per un atto notarile di un appartamento venduto in casa tenovo. Sono in compagnia di Roberta e Alberto e vorrei chiedere loro come si sono trovati con il mio studio e con il servizio offerto. Ci siamo trovati molto bene, è una professionalità ottima quindi assolutamente se dovessimo riavere necessità ci riappoggeremo in questo studio. Abbiamo avuto anche la collaborazione o meglio voi avete accettato anche la collaborazione di una homestager di Paola in Marisio che ha potuto risaltare le qualità del vostro appartamento con un servizio di homestaging e questo sicuramente è stato vincente perché ha reso tanto per l'appartamento tant'è che ho dovuto anche calibrare le visite visto che ne sono arrivate veramente tante. Bene allora devo ringraziare anche Paola a questo punto per il suo aiuto. È stato un lavoro ottimo davvero diciamo che ha risaltato tutte le caratteristiche della Canada. Quindi a livello commerciale non possiamo che essere contenti sia grazie all'aiuto della signora Paola ma anche ovviamente per quanto riguarda la tua professionalità oltre che devo dire a livello di gestione delle pratiche burocratiche perfetto impeccabile che questo può aiutare anche a togliersi i pensieri in queste fasi importanti e delicate. Sì perché veramente sembra una cosa semplice ma non lo è e le cose da fare sono sempre tante. Abbiamo avuto piena attivucia veramente subito dal primo momento quindi complimenti. Quindi vi ringrazio. Allora promossa? Promossa a pieni voti. Grazie, grazie mille.